saluti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video io sono Lai2021 e questo è gambero chi mi sembra questo? no no lui è acchinato spoiler che non bisogna mettere qui non ho capito cos'è che bisogna mettere c'è giù a chi tipo done domanda numero 1 ok se mi carica guarda ma credo niente di fregare una minchia tu stasera attenzione ora adesso penso è nato in italia? si e che cazzo non so se sei nato in italia? attualmente ha più di 30 anni che cazzo che so no il suo personaggio è femmina? no è diventato famoso grazie di tu per me? è famoso? probabilmente probabilmente mi sembra già che fare col mondo dello sport? no è un cantante? no si uccidono? no è diventato famoso grazie di visione? no ha scomposto il genio ha un cellulare? no è morto? si oh fantastico ha ucciso essere umani? si in seconda te cosa uccide? è romano? cani cazzo stai dominando? si è morto da più di mille anni? no è no ha assistito tanto tempo fa? no penso no no ha recitato il dottor Hauser? no beve alcol? è uno si è stato inquisito no ha il nome che inizia per L? no let you il suo personaggio ha le gambe? si no c'è Avast c'è stai buono si non ha le gambe pratica uno sport che si sciva su una superficie scisno buona? no vive nel mare? no è un boss del crimine? no cioè il suo personaggio è morto in modo violento no si è stato infiltrato combatte? si canta Gangnam Style? no si combatte facendo wow 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 stai pensando a chi è? no non l'ha indovinato mi ha fatto domande troppo vaghe oh come cazzo ho fatto? tocca a me l'ha indovinato oddio addirittura addirittura bastardo l'ha indovinato madonna ferrattore guarda come dici vai 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 dai guarda fra sto per fare è femmina secondo te tua madre è femmina no assoluto è reale si qui dentro a parte di un cartone è parte di un cartone si molto violento cazzo cazzo che cazzo ho un caputo ha un sacchetto interno si cosa hai visto combattere no non è si no sta sempre lo scordi con il mondo delle armi no è cano anche fare con il gaccio no il suo numero gioca spesa gioca con 1 a 3 no sta passando su fifa fa video divertenti no e se mi sarà giusto a dire con le mani eh facerti giochetti no quelli indossano maschera si verde no non è maschera c un martello è un ninja molto agile se a parte di un film no sta per spesa e poi cazzo che fare con i demoni probabilmente perché vengono di una band power match è un momento ti ho messo te lo suscitato a più di venti cazzo non so non lo so a più di venti è un mostro una serie che interpreta non so se non c'è un mostro non proprio non è il peccato il peccato di crash of clans non è non è non è vai non è una bassa bassa penale a che fare con i robot no è cattivo sta parte generale è è surreale sì 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 va più di venticentani non lo so 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 è troppo studiare che direttamente se gli spaccano batte con la spada no no è stata la ricerca che cazzo ne so no perché troppo ciò fate adesso vale no seconda non è che fai regali un'interno lo stesso no io sessanta lì nome in città e non costumissima interpretato voi in questo senso frattuale il preggio basso l'armatura ovviamente non so se la consiglio non è la sede per la fegna la chiesa sentito che parla su rete si vedevano maschio ho poteri speciali? no ha a che fare con l'economia? con gli occhiali ha a che fare con Batman? io sono Batman no pratica un wrestling? no il nostro mantello? no si fa chiamare solo per cognome? no Ferra è la bambina torre cazzo fai così che se sbaglio ancora ti diano la sberla a tutto con mu ahahahahahahahahahahahahah rexar mok natale warcraft 3 the frozen throne dai finché non te ne indovini si veste sempre di nero no aiutato Steve Jobs ad evitare la banca no ma che era il nostro capuzio si 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 no come non sa che tu la spesa è un essere umano no è molto muscoloso vedo che capisci un amico di neroe no ragazzi ah ecco fa parte il residente no il foglio no cosa? c'è un animale c'è un animale c'è un animale no combattere le mani nude si si un cappello berretto con una sia un qualsiasi tipo no no e non puoi cercare col telefono figlio di un scioglio non lo so metti non lo so che cazzo che cazzo è so qui figlio di puttà no non è di questo è virtuale sì è la ventesima la mia di superpoteri no porta i baffetti che cazzo è so che sei baffetti si è soprannominato il molleggiato no no io c'è il molleggiato bo no Blizzard Countertime mi chiede sempre quello vuoi che fare con giochi o no sempre con se ci urlare sto cercando di capire se è tipo Watch Dogs ma non è Watch Dogs non l'ho trovato ho pubblicato più di te no è buono no mi hai chiesto se prima che è cattivo che grosso sì pensate allo spazio mi conosci più per i suoi muscoli sì sì non te l'indovino Goro hai indovinato Goro 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 mi guarda non è lui era afferrato Nigami vediamo se mi indovina lo Shinigami viene dall'Italia no è veramente esistito no fa parte di un cartone sì ha i capelli no è un animale no è lui il suo personaggio combatte no è un altro il suo personaggio è giallo quindi stai pensando a quello ma non è giallo hai mai fatto una challenge no mi guarda Disney no è grasso guarda se gli dici che è grasso si arrabbia ha la pelle no guarda è solo muscolo penso di no hai fatto di metallo no ha le gambe sono tentacoli non lo so è basso no costruisce case no nero d'Australia no si resta sempre nero sì sì è giapponese sì è un dio una dea sì ha un figlio sì è una dignità sì te l'ha trovato maledetto no non l'ha trovato sono sciogami l'ha trovata non ci credo come cazzo hai messo stimo sarebbe la morte questo qua è un figo ok non è lui no dai l'ha indovinato troppissimo è troppo schifo lui lui com'è che si chiama cavolo è un polpo è da Italia no esiste davvero o no ha i capelli no ha fatto un cartone sì è un animale no combatte no è giallo sì vive in acqua no è stato senatore no che cosa ha tre figli non mi prendo non lo so no no è un animale la persona no ha le gambe sono tentacoli sono probabilmente è adolescente no canta musica go poche cosa ha la moglie blu no ha fatto in metallo no no ha le orecchie no ha fatto il videogioco no hai tentacoli sì l'ha vissuto in Giappone sì no non l'ha trovata all'altro lato coro sensei era coro sensei fa troppo cioè è troppo inquietante questo tizio ce li indovina tutte sì dai un'altra edifici esso non la indovinerà mai il drone ok età 10 10 4 5 6 7 ma che ci si sa veramente una persona allora minchia bordello sì il tipo come si chiama è maschio sì viene da l'italia sì ha più di 26 anni non lo so probabilmente ha un canale di tubi di videogiochi no è un cantante no no dubito anche fa il comodo squat no è un'altra no però ha un cellulare sì è apparsa canale 5 sì sì no 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 è un attore no ti ho usato non lo so no non credo no 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 perché dice cose stupide sì 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 l'ho trovato è nato in italia sì l'ho trovato no perché si chiama mica bordello sì l'ho trovato l'ho trovato non ci credo non ci credo l'ho scritto l'ha trovato filosofo anarchico c'è scritto quindi mentre mi hanno dato fuori di testa io ce l'ho tosse ciao ragazzi al prossimo ciao vabbè commentate iscrivetevi e fate un cazzo che mi ha